Buongiorno a tutti, ben ritrovati sulla Nuova TV, continuano queste belle giornate che se da un lato fanno piacere a tutti coloro che amano il bel tempo, il caldo, ma sicuramente non fanno piacere all'agricoltura, alla stagione praticamente sempre più siccitosa, piove sempre di meno, la neve è praticamente assente sui mondi se non a quote elevate, quindi abbiamo il non inverno che continua a perpetrarsi ormai da tante settimane e le giornate primaverili sono sempre più costanti come oggi d'altronde, a parte un po' le zone ioniche dove c'è un po' di nuvolosità, ma non sembra certo di stare in pieno inverno, siamo a fine gennaio, dovrebbe essere il clou dell'inverno, invece quest'anno l'inverno addirittura non è mai iniziato se non con un po' di neve su alcune zone della Basilicata, ma davvero episodi invernali non ce ne sono stati, vedremo nei prossimi giorni se ci sarà qualcosa, si muove qualcosa all'orizzonte, poi vedremo una cartina proprio a tal proposito, nel frattempo prendiamo atto della mancanza di pioggia, della mancanza di neve, di giornate fredde durante la notte, quello sì, il ghiaccio non manca mai in presenza di cielo sereno, ma di giorno le temperature sono sicuramente con temperature più vicine al mese di aprile che non al mese di gennaio. Vediamo l'immagine del satellite che ci spiega il perché di questa anomalia, l'aria fredda continua a scendere ancora una volta, vedete Francia, Inghilterra, Spagna, i ciotoli, i numeri a forma di ciotoli indicano proprio la presenza di aria fredda, aria fredda che poi va a tuffarsi sul Nord Africa, sul Mediterraneo occidentale, si forma una depressione, ci sono delle piogge attualmente nella Spagna meridionale, sulle Baleari, sta nevicando in Marocco come spesso succede a oltre i mille metri, stamattina tutto il paesaggio era imbiancato, quindi la neve si è spostata ormai sul Nord Africa e da noi in quota c'è una rimonda anticiclonica che non favorisce le precipitazioni, non favorisce neanche le nubi se vogliamo, infatti andiamo a vedere l'ingrandimento, ci mostra proprio le regioni centro-meridionali con un'assenza di nubi totalmente, invece una nuvolosità irregolare è presente sulle centrali tirreniche, sul Nord Ovest, dove sono in atto delle piogge e delle nemicate in montagna, ma sicuramente il quadro delle piogge è ancora una volta scarso, per fortuna c'è stato un po' di piogge all'inizio dell'anno, ma adesso sono diversi giorni senza precipitazioni importanti. Vediamo, con l'immagine del satellite abbiamo visto una nuvolosità praticamente assente, a parte nelle ore serali un po' di foschia, un po' di nuvolosità presente, proveniente proveniente dallo Ionio, vedete, gran parte della regione vedremo cielo sereno, stellato e abbiamo invece un po' di nebbia nelle vallate, insomma anche nelle zone a nord, nelle vulture merfese, un po' di nuvolosità presente sulle aree più orientali della regione, soprattutto sulle zone Ioniche, quelle più vicine al mare, dove il vento da sud-est si fa sentire, infatti vediamo anche le previsioni per domani, non cambia molto, una Basilicata divisa in due, sul lato occidentale avremo una situazione di tempo buono, quindi cielo sereno, poco nuvoloso, man mano che ci spostiamo verso est, la nuvolosità va aumentando, sia nella parte nord della provincia di Matera, sia soprattutto sulle zone Ioniche, la nuvolosità sarà piuttosto diffusa, tanto che sulle zone a ridosso del mare Ionio non dovrebbe esserci schiarita, ma il cielo dovrebbe essere coperto per tutta la giornata e non si esclude qualche debole piovigine, perché in questi casi poi è facile che qualche debole pioggia o piovigine cada giù dal cielo. Questa situazione incide anche sulle temperature, vediamo infatti i valori termici previsti per domani, le minime avremo meno 2 a potenza, vedete Matera ha un aumento di molti gradi, arriveremo a 7 gradi, proprio perché la nuvolosità non favorirà la perdita di calore durante la notte e soprattutto la nuvolosità terrà quindi le temperature su valori al di sopra delle medie, invece le massime, il contrario, avremo 12 gradi a potenza ma si raggiungeranno facilmente i 14-15 gradi in diverse zone della città e invece su Matera avremo una diminuzione delle temperature dovuta alla presenza della nuvolosità e della ventilazione da sud-est che comunque rimane debole, vedete i venti generalmente est-sud-est con mari quasi calmi poco mossi. Vediamo la domenica, ruotano i venti, i venti da sud-est ruoteranno a nord, questo significa una certa diminuzione delle temperature nei valori massimi sulla provincia di potenza, sulla parte centrale della regione, vediamo infatti una nuvolosità diversamente collocata sul territorio, avremo cielo sereno sulla parte occidentale della regione e soprattutto del lagone grese, sud-occidentale dove avremo la presenza dell'Appennino che impedirà i venti di produrre della nuvolosità, invece della nuvolosità irregolare sarà presente nella parte centro-settentrionale della regione, come dicevo arrivano i venti da nord, invece comincia a vedersi qualche schiarita sulla parte ionica perché lo scirocco cessa e arriva il maestrale. Non ci sono precipitazioni significative, andiamo a vedere la ventilazione, dicevo da sud-est rotazione, vedete su tutta la regione a nord, nord-nord-est sulla parte occidentale, nord-nord-ovest su quale orientale, mari quasi calmi o poco mossi e le temperature aumentano leggermente la minima per quanto riguarda la città di Potenza, invece diminuisce di diversi gradi il valore della massima perché un po' più di nuvolosità sarà presente, sarà presente anche il vento da nord, quindi valori, se vogliamo siamo ancora sopra le medie, invece su Matera rimaniamo stazionari su 7 di minima e 10 di massima, insomma sono valori poco consoni al mese di gennaio nella parte clou dell'inverno, anche perché veniamo da temperature molto al di sopra della media, quindi continuano, come dicevo, una stagione così anomala con mancanza di precipitazioni di neve. Vediamo per quanto riguarda i prossimi giorni avremo un aumento della pressione e per lunedì la tendenza è quindi a un rasserenamento generale, vedete, tanto sole sulla nostra regione, questo indurrà le temperature a salire nuovamente di molti gradi, quindi le minime rimangono sempre bassine, stante il cielo sereno, ma le massime supereranno i 10, anche i 15 gradi in diverse zone del territorio, quindi sembrando quasi, ci farà sembrare quasi questa temperatura di essere in primavera, ma di fatto lo siamo perché dall'inverno attualmente è ancora assente. Oggi non abbiamo la cartina degli spaghetti, siamo un po' a dieta da questo punto di vista e andiamo a vedere una cartina del sito, ho preso una cartina del sito brasiliano questa mattina, perché ultimamente dei siti europei che americani cominciano a prendere un po' di cantonate, quindi vediamo se il modello brasiliano questa volta sarà più predecibile, vediamo una situazione che mostra il calo dei geopotenziali, questa cartina è riferita alle ore mezzanotte tra il 31 dicembre e il 1 febbraio, a cavallo quindi dei due mesi. Sembra che vogliano flettere i geopotenziali sul lato occidentale europeo, chissà che questa volta la depressione venga più verso l'Italia, c'è tanta aria fredda, vedete, sulla parte nord della Scandinavia, se quell'aria fredda si dovesse riversare nei primi di febbraio verso sud potremmo avere ancora tante chance per un inverno più bianco, un inverno più piovoso, un inverno più consono alle aspettative. Vedremo se questa cartina darà i suoi effetti, sembra proprio che ci sia un cambio di tendenza ai primi di febbraio, nel prossimo appuntamento di venerdì prossimo potremmo effettivamente vedere se questa linea di tendenza sarà appunto rispettata. Per oggi vi saluto qui, vi do appuntamento al prossimo appuntamento sulla Nuova TV e buon weekend.